Piacere, sono tornato in migra e sono venuto qua per rubarvi il lavoro. Sono cazzate che sto scappando dalla fame, dalla guerra. A me la mia terra non mi piace e non mi è mai piaciuta. Quando sono nato, io vengo da un paesino vicino al mare. Quando sono nato ho aperto gli occhi e la prima cosa che ho visto è stata il mare. E ancora appena nato, il primo pensiero che ho fatto, la prima immagine che si è formata nella mia mente è stata io in mezzo al mare verso l'Eura Friberico Asia. Mi ricordo appena arrivato che subito arrivò la polizia e mi disse Generalità. Io mi scuso di ciò, ma non capì nulla perché ero arrivato da poco e ancora non parlavo la vostra lingua. E quindi non capendo non risposi. Allora uno di questi in divisa, il più alto di tutti, mi prese e mi cominciò a strattonare. Ti ho chiesto come ti chiami e io continuavo a non capire. Ma ero contento, ero contento perché subito capì che quel buon uomo giustamente voleva valutare la mia condizione fisica e mentale. Fisicamente voleva vedere quanto il mio corpo ancora resistesse dopo quattro giorni di mare a pane dure acqua e mentalmente voleva vedere quanta reale intenzione e motivazione io avessi per venire qui. E io, nonostante mi strattonasse forte, rimasi dritto e sorridente. Beh, certo, un po' debole mi sentivo, dopo quattro giorni di mare a pane dure acqua, ma ero soddisfatto e riconoscente. Infatti credo che sia il minimo che una persona debba affrontare per poter essere accettata da un altro paese. Anzi, secondo me ci vorrebbero degli accordi internazionali più seri e più rigidi. Alla fin fine quattro giorni di mare a pane dure acqua sono pochi. E' pur vero che dal forte spavento per le onde che certe volte erano più alte di una casa, è pur vero che non ho dormito per tutti e quattro i giorni. Ma per quanto mi riguarda è così tanto l'amore che mi portò ad essere qui in questa terra che ne avrei fatti pure sette, dieci giorni di mare, solo a pane duro, senza acqua. O meglio, vuoi l'acqua, vuoi? Va bene, te la do. Ma quella salata deve essere quella del mare. Facile se no. Sapete quanti ne ho visti i cretini, i miei compaesani che si bevevano l'acqua del mare. La pancia si gonfiava, cambiavano colore e morivano. Ma dico, almeno prima impara a vomitare, no? E' pur vero che anch'io da bambino, quando già mi esercitavo per affrontare il mare, anch'io pensavo che l'acqua del mare si potesse bere. E così facevo degli esperimenti. Mi ero costruito il mio kit di esercitazione e preparazione al viaggio. I primi elementi che costituirono il mio kit furono acqua, sale e una bottiglietta. Questa bottiglietta la portavo sempre con me e ogni tanto ne sorseggiavo un po'. L'avevo intuito subito che il trucco stava nel fare dei piccoli sorsi. Però, nonostante i miei sforzi, la mia buona volontà, ne riusciva a bere troppo poca. In un giorno nemmeno un quarto di bottiglia. E allora capii che il problema era dovuto all'assenza di necessità, alla mancanza di un vero bisogno, all'assenza di costrizione. E fu così che decisi di aggiungere al mio kit di esercitazione e preparazione al viaggio un imbuto, una corda e questa. Il mio kit diventava di giorno in giorno sempre più studiato e progettato per ogni evenienza. Anzi, quasi quasi, prima o poi lo brevetto questo kit e faccio un bel business. Già immagino dei venditori professionisti che vanno in giro per il mondo. Comprate il nostro kit di esercitazione e preparazione al viaggio, un kit ad alto potenziale e di aiuto umanitario. Oltre ad aiutare i fortunati che decidono di lasciare la propria terra natia, è un'arma di prevenzione per tutti quei paesi che sono costretti ad accogliere lo straniero. Infatti, con il nostro kit la gente affronterebbe meglio il viaggio e non arriverebbe in quelle condizioni pietose. Di conseguenza, chi li accoglie non si troverebbe costretto ad affrontare tutti quei problemi dovuti all'incompetenza del viaggiatore. Abbiamo kit bianco, kit rosso, kit nero, kit giallo in base al colore dell'emigrante. Cosa aspetti? Compra l'ultima versione 2.0.3.17.000 da morti in mare negli ultimi vent'anni del nostro kit di esercitazione e preparazione al viaggio. E così, dopo aver aggiunto i nuovi elementi al kit, ho chiamato il mio migliore amico e gli ho detto, tieni l'imbuto, tieni la bottiglia e legami le mani. iscritti la bottiglia del nostro kit e legami le mani. Vieni qua! Vuoi andare nella terra amata? Dove c'è la gente evoluta? Allora questa ti devi bere! No! Volete sapere perché al mio kit ho aggiunto la vaschetta? Perché vedete, una cosa fondamentale da sapere quando si affronta un viaggio e che non si butta niente, tutto viene riutilizzato. Se non ci fosse stata la vaschetta, tutta quell'acqua salvifica che ho vomitato sarebbe stata sciupata. Col tempo capì che il mio kit era carente proprio per la sua capacità di riciclo e fu così che decisi di aggiungere un'altra bottiglietta per il riciclo del piscio, un tovagliolo cattura briciole di pane secco, una spugnetta assorbi sudore da poter spremere e riutilizzare in caso di un eventuale eccesso di pelle secca. Dovuto al sole che certe volte sembrava accanirsi con la nostra piccola barca e asciugava tutto e tutto rendeva incandescente. ti seccava pure l'anima. Mi dispiace, ma su questo devo riconoscere che nella mia terra natia siamo più evoluti. Mi ricordo le risate che mi feci qua quando per la prima volta senti parlare di riciclo della carta, della plastica. Voi non avete idea di cosa sia il vero riciclo, non avete idea di cosa voglia dire trovarsi di fronte alla scelta di vedere morire tuo figlio di sete o di decidere di salvarlo dandogli il tuo stesso piscio. Lo so signora, lei giustamente sta pensando ma l'acqua salata non c'è bisogno di riciclarla con tutta quella che c'è nel mare. E invece si sbaglia perché vede quando le onde sono più alte di una casa, che non ho dormito per quattro giorni dallo spavento. Quando le onde sono più alte di una casa non è facile riempire la bottiglietta. signora la sento, signora parli piano perché sento tutto. Ma è incredibile, ma come fa a parlare così bene, solitamente gli stranieri non riescono ad aprir bocca. Beh, di sicuro si sente che ha un accento molto strano, però parla bene. Signora, io è da vent'anni che sono qui. Ancora sa quante cose le devo raccontare? Una delle esperienze più belle, più divertenti che ho avuto la fortuna di vivere qui è stata la richiesta del permesso di soggiorno. Per più di un anno uscivo di casa la mattina, metropolitana, bus, linea 5, questura. Buongiorno, vengo dal commissariato che mi ha detto di venire da voi per ritirare il mio permesso di soggiorno. È da un anno che lo aspetto. Nome e cognome. Tonato nome, immigra, cognome. Carissimo tonato immigra, ci risulta che quando sei arrivato nella nostra terra hai rilasciato delle false generalità. Ma chiedo scusa, quando sono arrivato non parlavo la vostra lingua, come avrei potuto dare un falso nome? Lo conosci questo? E mi mostrò la foto di quel buon uomo, quello alto in divisa che mi strattonava. È certo che lo conosco, è quel buon uomo che mi ha colto al mio arrivo. E tu cosa gli hai risposto? Ma le ripeto che io non parlavo, non capivo. Te lo dico io. Cos'è il risposto? Hai risposto... Ma forse lei si riferisce al fatto che io ridevo. Ma io ridevo perché volevo dimostrare la mia felicità di essere qua. Basta! In base al primo controllo risulta che tu ti chiami di nome e di cognome e poi noi non rilasciamo permessi di soggiorno. Prendi il tram, scendi alla settima fermata, risale all'ottava, all'angolo della strada c'è il commissariato. Tram! Scendi alla settima, risale all'ottava, angolo strada, commissariato. Buongiorno, vengo dalla questura che mi ha detto di venire da voi per ritirare il mio permesso di soggiorno. È da un anno che l'aspetto. Oh, il signor... No, non rilasciamo permessi di soggiorno, devi andare alla questura. Metropolitana, bus, linea 5, questura. Tram! Scendi alla settima, risale all'ottava, angolo strada, commissariato. Metropolitana, bus, linea 5, questura. Tram! Scendi alla settima, risale all'ottava, angolo strada, commissariato. Oggi, 14 maggio 2013, viene consegnato il permesso di soggiorno al signor Tonato Immigra, valido dal 14 maggio 2012 al 14 maggio 2013. 16 maggio 2013. Grazie.